Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha attivato un progetto di ricerca in monitoraggio sugli insetti impollinatori, biodiversità e servizi ecosistemici. Il presidente Tommaso Pellegrino ha spiegato che si tratta di un'azione importantissima alla quale hanno aderito tutti i parchi nazionali d'Italia. Il progetto infatti serve a creare un monitoraggio ambientale attraverso i bioindicatori naturali come le api. Oggi le api rappresentano l'elemento più importante per verificare lo stato di salute del nostro territorio, ha detto il presidente, perché la vita delle api è incompatibile nelle zone che presentano un forte inquinamento. È proprio per questo motivo che l'ente parco nazionale del Cilento ha aderito convintamente al progetto di sistemi dei parchi nazionali italiani nell'ambito del piano d'azione per il biomonitoraggio ambientale delle aree protette. le api come bioindicatore della qualità ambientale, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In seno al progetto entrano in campo anche gli apicoltori del territorio che è stato fondamentale, ha detto Tommaso Pellegrino, soprattutto negli ultimi anni nel nostro parco si è assistito ad una notevole presenza di apicoltori e questo significa indubbiamente che c'è una condizione favorevole e questo ci fa ben sperare. Le api infatti dove ci sono metalli pesanti non riescono a vivere e proprio attraverso le api il parco sta sviluppando un biometraggio ambientale per capire la nostra qualità del territorio. Continua il presidente, le api per sensibilità, attitudini e comportamento trofico costituiscono un eccellente indicatore della salute ambientale, hanno un ruolo molto importante nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura. Sono insetti impollinatori, cioè permettono l'impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti trasportando il polline da un fiore all'altro. Attraverso questa attività garantiscono la presenza di specie vegetali diverse fra loro, un elemento importantissimo per la salute della natura. Prendersi cura delle api vuol dire quindi salvaguardare la biodiversità e la sicurezza alimentare. Anche l'ONU ha voluto sottolineare l'importanza di questo tema proclamando il 20 maggio la giornata mondiale delle api. Questi piccoli animali, sottolinea il presidente, sono degli indicatori ecologici estremamente affidabili e questo monitoraggio sta affermando che il nostro territorio possiede una condizione ambientale ottimale. Ovviamente voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali sono stati impegnati in questo progetto, ha detto Tommaso Pellegrino, che ha visto in prima fila l'Università del Molise, ma ripeto soprattutto gli apicoltori del posto. Grazie a questa azione di sistema finanziata dal Ministero dell'Ambiente, infatti importante è stato coinvolgere gli apicoltori nel progetto con azioni partecipative, nello studio biologico dello stato di salute delle famiglie di api per verificare le condizioni di salubrità ambientale del territorio tutelato e della conservazione degli ecosistemi naturali, seminaturali e agricoli, tutto questo anche per favorire uno sviluppo socio-economico sostenibile collegato alla creazione di una filiera dei prodotti delle api dove la qualità possa essere certificata e promossa adeguatamente.